Qui in studio con noi è arrivato Otto, guardate che meraviglioso Weimaraner accompagnato da Nicole dell'associazione SOS Weimaraner che proprio salva questi meravigliosi cagnoloni quando si trovano in difficoltà e Otto era in difficoltà Nicole. Era in difficoltà perché si trovava in una cascina, uno stato di incuria, era pelle ossa, adesso stiamo cercando di riprendere peso. Ha qualche piccolo problemino alla schiena, ma si sta riprendendo grazie anche alla fisioterapia e grazie al dottor Offer Zeira dell'ospedale San Michele di Oggi e lui appunto al momento ha bisogno davvero di tantissime coccole, di tanto amore. Ma è una dolcezza, quanti anni ha questo cagnolone? 20 mesi. Quindi è anche un cucciolone pronto per entrare nelle vostre case. Otto è un super coccolone, datemi una possibilità e lui vi cambierà. Vi riempirà d'amore, questo è sicuro, eh Stella? Ma guardate che sguardo, eh? Mi sta dicendo, mi raccomando, sarò un bravissimo compagno nella vostra vita, eh? E allora io credo che non ci resti che dare il numero di telefono dell'Associazione di Nicola per adottare il nostro 8. 351 0378 659. Oppure con